raga mi sono accorto di non aver fatto una cosa importantissima auguri a tutte le donne perché oggi è il giorno delle donne auguri a tutte quante le donne nel mondo sì auguri mi dispiace non averlo detto nel video della recensione di apetre france sono ancora sconvolta da quello che ho visto forse non era il caso forse devo portare un video sulla festa delle donne mi dispiace raga ma la prossima volta nel 2023 giuro che lo porterò un video sulla pasqua lo porterò ragazzi perché tra poco sta arrivando la pasqua e non vedo l'ora questo freddo di merda io voglio che arrivi il caldo sì ragazzi perché sto freddo io lo detesto lo detesto ah e già che siamo qui volevo farvi vedere una cosa che ho da un sacco di tempo chi conosce mortal combat per chi non lo conoscesse è un gioco in cui ci sono dei combattenti che devono combattere l'ultimo sangue e alla fine c'è scorpion wins fatality oppure hermark wins fatality oppure shokan wins fatality insomma tutti i personaggi la fatality è una mossa finale brutale poi c'è la brutality poi l'animality poi la babality eccetera ci sono tutti i cazzi del mondo vabbè io ho questa statua scorpion che accoltella star zero con il suo alpione però peccato che l'alpione staccato quando ho comprato mortal combat complete edition mi aveva mandato questo ma ora è un brotto perché ce l'ho da un bel po di tempo però comunque molto bello comunque tornando a noi auguri a tutte le donne mi dispiace tanto merdonate non averli fatti gli auguri ma l'ho troppo impugnato mi sono dimenticato durante la riazione volevo farli durante la riazione ma non ce l'ho fatta infatti ve li faccio adesso auguri a tutte le donne un bacio